Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Mano sinistra verde Gigi E ce l'abbiamo fatta anche qua Ciao Elmore! Buonasera, ciao! Grazie Scarra! Grazie a tutti! Mertens! Ti bacio! Ti bacio Mertens! Ti bacio! Nooo! E' una cosa bella! La cosa bella è che scrivo pure Penso sia un complimento! Ciao Scorpione! Penso sia un complimento! Ma nooo! Ciao Umber! Ciao Umber! E Rika sembra il Papa! Sì ci sta guardando dall'alto Rika ragazzi! Sì! E Zarka è da Napoli, Italia! Sì! Ouuu! Sì! 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 Sì!